Venerdì, la Cavese festeggia il centesimo anniversario della sua fondazione. Nata nel maggio 1919 per volere di alcuni giovani borghesi, la realtà calcistica a cui lotta cento anni più tardi ha fatto vivere ai propri tifosi un'altalena di emozioni. Nel campionato di Serie C appena trascorso. Sbollita la delusione per la terrificante sconfitta di Bisceglie, bisogna guardare più in là. Ci saranno i festeggiamenti per il centenario e poi sarà necessario programmare la prossima stagione calcistica che sarà per gli Aquilotti in Serie C. Presentata stamattina la festa del centenario proprio nel municipio, l'evento denominato La Notte Blu Fonsè è patrocinato dal comune di Cavale Tirreni, oltre a essere stato organizzato dalla società Cavese. Una serata che avrà inizio alle 18 con il ritrovo delle vecchie glorie e che vedrà il Clou alle ore 21.30 a Piazza San Francesco con la conduzione di Fernando Siani e Iolanda De Rienzo e interventi di Nunzio Siani, Fabrizio Prisco e Antonio Giordano, oltre a numerose testimonianze sul palcoscenico. Un evento che RTC Quarta Rete trasmetterà in diretta. Ora in questi interventi ascoltiamo il sindaco di Cava Vincenzo Servalli, poi l'ex capitano della Cavese Paolo Braca e il presidente della Cavese Massimiliano Santoriello. Sì, intanto la felicità per aver ritrovato la Serie C, la felicità per aver ritrovato una società solida in grado di guardare non soltanto all'oggi ma con una chiara prospettiva di sviluppo e di programmi per portare sempre più avanti la società di calcio. La felicità per essere il sindaco, oggi a 52 anni il sindaco del centenario, dopo una vita intera, fin dalla tenerissima età, accompagnato da questa straordinaria passione per la Cavese. Quindi veramente una situazione molto particolare. Se qualche anno fa mi avessero detto che sarei stato sindaco nell'anno del centenario, l'avevi presa per una battuta. Ho fatto tutto a Cava di Tireni, ci manca poco. Io dico che sono venuto a Cava, mi sono trovato molto bene, sicuramente sia da calciatore che un po' meno da allenatore perché per problemi extra diciamo, però a Cava si vive bene, questo è un discorso che altri calciatori hanno fatto, io sono rimasto qui a Cava e mi trovo bene. Massimiliano Santoriello, presidente della Cavese Calcio, cosa dire insomma? La Cavese compie 100 anni e lei potrà raccontare, avrà l'onore di poter raccontare ai nipoti di essere stato alla fine il presidente del centenario. Certo, è una bellissima esperienza e sicuramente sarà anche una bellissima manifestazione dove noi tutti i cittadini cavesi potremo dimostrare l'attaccamento e l'amore verso la nostra città e verso la maglietta Blufonset. Tempo di spareggi nel campionato di Serie C, passiamoli in rassegna. Ai playoff Potenza Catania 1-1, Feralpi Salò Catanzaro 1-0, Carrarese Pisa 2-2, a Monza Imolese Monza 3-1 e inoltre Arezzo Viterbese 3-0. Le gare di ritorno si giocheranno tutte mercoledì a campi invertiti. Invece nei playoff abbiamo il successo 2-1 della Paganese sul Bisceglie e quello per 2-0 della Lucchese sul Cuneo. Inoltre la Virtus.v.com nel girone B ha sconfitto il Rimini per 1-0. Tutte le gare di ritorno si giocheranno tra sabato e domenica, anche in questo caso a campi invertiti.